La prima gara del girone di ritorno, partiamo subito con un derby contro il Torbole, speriamo di replicare il risultato dell'andata, sappiamo che loro sono una squadra forte, sono in testa alla classifica, comunque ai vertici. Noi ci siamo allenate durante questa pausa post-girone d'andata e speriamo di fare quello che sappiamo fare anche in allenamento. E niente, siamo cariche! Vi aspettiamo a Maclodio alle 20.30 sabato!